Questo villaggio è appunto una parte di un sistema di esteso insediamento nel territorio veronese e è un sito che è stato in parte sbancato per motivi agrari, del quale il sito si conserva solo una porzione che è quella dove siamo adesso e lo scavo adesso è iniziato da otto settimane, quindi è un work in progress e stiamo scavando delle fasi alte di questo abitato che sono caratterizzate soprattutto da degli grossi scalichi di cenere, scalichi di stoviglie e quindi con grosse quantità di ceramica, ossi eccetera. In questo momento qua, cioè nell'ultima settimana, negli ultimi dieci giorni, abbiamo iniziato invece in una parte sud orientale dello scavo a mettere in luce fondamentalmente delle buche di palo, dei piani di calpestio con carboni, con cenere, delle strutture delle quali ancora non conosciamo bene l'utilizzo e dei lacerti di focolare con dei grossi vespai in ceramica, quindi stiamo entrando nel vivo di quello che è il focus della nostra ricerca, cioè che è appunto lo studio di strutture abitative, quindi contiamo di finire la prossima settimana temporaneamente la stagione di scavo con già delle buone indicazioni su quello che ci aspetta poi alla ripresa l'anno prossimo.